I libri contengono brevi racconti in genere, sono testi molto brevi, ma parliamo spesso e volentieri di avvenimenti di storia della nostra Forlì e della Romagna di assoluto rilievo a livello nazionale e a volte anche a livello internazionale. Poi inseriamo in questi volumi una storia un po' più minuta, un po' più caratteristica come ad esempio il fatto che per tanti anni e ancora adesso a Cusercoli dove un tempo il partito comunista prendeva oltre il 75% dei voti la stragrande maggioranza dei cittadini non andava in chiesa ma che cosa produceva? Produceva i rosari, realizzava, costruiva i rosari e abbiamo riportato un articolo del 1952 di Don Lorenzo Bedeschi che dice il parroco del posto non vede molti suoi concittadini in chiesa alla messa però si deve accontentare del fatto che almeno creano lo strumento, cioè il rosario per pregare Dio, la Madonna eccetera eccetera. Ecco fatti un po' più minuti ma che fotografano esattamente quello che succedeva a Cusercoli negli anni 50 e negli anni 60. Ma la storia più grande che abbiamo raccontato in questi libri con ripeto testi molto brevi sono per esempio, le storie sono per esempio l'arrivo in Romagna e in particolare a Monte Paolo di Dovadola nel 1221 di quello che diventerà Sant'Antonio da Padova. Ora Sant'Antonio da Padova che ancora oggi è insieme a San Francesco il santo più venerato al mondo ha avuto una vita a Dovadola, a Forlì e questo lo dobbiamo sempre rimarcare, sempre mettere in evidenza. Tant'è vero che a Lisbona nella cattedrale città natale di Sant'Antonio da Padova c'è una lapide che lo ricordo come Sant'Antonio di Forlì. Perché? Perché nel 1221 arrivò a Monte Paolo di Dovadola sulla parte del monte che dà verso la Samoggio, verso Faenza dove c'era un piccolo romitorio, erano presenti probabilmente 5 o 6 frati. In una situazione di estrema povertà, in una situazione proprio di isolamento totale, lui, padre Antonio, che aveva partecipato ad Assisi al capitolo delle Stuoie, un importante appuntamento di frati francescani che hanno dettato in quell'occasione tutte quante le regole dell'ordine, fu invitato da un altro frate, padre Graziano, a raggiungere in Romagna questo piccolo, oggi si direbbe monastero, ma loro erano delle capanne, quindi un piccolo romitorio dove c'erano questi 5 o 6 frati che non potevano celebrare messa non essendo stati ordinati sacerdoti. Mentre lui poteva ovviamente celebrare la messa. Raggiunge Monte Paolo di Dovadola e si mette al servizio di questi 5 confratelli, chiede ad uno di loro la possibilità di ritirarsi in meditazione a pregare in una grotta che questo suo confratello utilizzava, e dal di lì la nomea e il fatto che poi a Monte Paolo nel 1908, quando il monastero che nel frattempo era stato creato, la chiesa che era stata creata, spazzati via da una frana, da una grande frana, sono stati ricostruiti sulla sommità del monte e sulla sommità del monte o quasi a poca distanza dalla chiesa hanno ricostruito anche la grotta utilizzando addirittura dei pezzi della grotta precedente. Lui è stato in quel luogo per circa 15 mesi e poi nel settembre 1222 a Forlì, durante un altro incontro di frati francescani, di altri frati di Porroci durante il mese di settembre e possiamo presumere che questo incontro, che questo raduno si sia tenuto nella zona di San Mercuriale o comunque in quella che è stata la prima sede dei frati francescani e Forlì, che era una chiesa oggi non più esistente nell'attuale via Fratti, dove ci sono quelle orrende case popolari per intenderci, lì nel 1200 e qualcosa fu costruito la prima chiesa dei frati francescani. Quindi possiamo presumere che questo raduno si sia tenuto fra la zona di San Mercuriale, che era già esistente, compreso il campanile, e la prima chiesa dei frati francescani. Una sera manca il predicatore, quello che deve tenere la predica, e chiedono a padre Antonio di fare lui la predica. Poi in un primo momento, abbiamo poche testimonianze su questa vicenda, ma gli storici su questo sono d'accordo, è molto restio ad accettare. Dice che non è all'altezza, poi si lascia convincere, e fa una predica talmente dotta, talmente coinvolgente, talmente di carattere spirituale, che conquista tutti. Allora bisogna fare questa considerazione. Un tempo i predicatori erano in genere frati o preti, che andavano in giro nelle nostre piazze a predicare, diciamo nel 1200, 1300, 1400, non c'erano impianti di amplificazione, non c'era la possibilità di montare su un palco predisposto all'occorrenza, alla necessità. Si doveva trovare un piccolo rialzo e parlare a voce, e bisognava avere una voce potente, ma soprattutto bisognava essere dei trascinatori, cioè bisognava usare argomenti su argomenti per tenere la gente incollata e con l'attenzione fissa nei confronti del predicatore di turno. Era una sorta di spettacolo, tant'è vero che spesso iniziava con i fuochi d'artificio e terminava con i fuochi d'artificio, per avere il maggior numero di persone possibile. Quindi padre Antonio si rivela in quel momento a Forlì nel 1222, per essere una persona molto colta, molto dotta, che ha, infatti aveva studiato fra Lisbono e Coimbra, quindi è chiaro che la competenza, la preparazione non gli mancava, non l'aveva mai espressa e in quell'occasione lo fa. Che cosa succede? Che nel giro di pochi mesi diventi il punto di riferimento del movimento francescano per il nord Italia, che voleva dire da Rimini fino a tutto il Friuli, di Venezia Giulia, fino al Piemonte, anzi ancora anche addirittura delle zone della Francia. E lui per i dieci anni successivi fino alla sua morte ha battuto in lungo e in largo tutte queste zone. Poi si è fermato a Padova dove, morendo, i padovani hanno, passatemi il termine, sfruttato il culto di Sant'Antonio e hanno costruito quella straordinaria basilica che ora oggi possiamo ammirare. E lui fu dichiarato nel 1233, quindi l'anno dopo la sua morte, dottore della fede e nonché santo. Lui insieme a San Francesco, i due, hanno fatto la storia per decine di anni, per secoli, della Chiesa Cattolica italiana e di conseguenza hanno fatto la storia del nostro paese e dell'Europa. E dobbiamo dire, rivendicare il fatto che questo suo rivelarsi è avvenuto a Forlì, è avvenuto perché è arrivato a Montepaolo di Dovado. Avrebbe avuto una carriera comunque da predicatore? Sicuramente sì, probabilmente non sarebbe sempre stato, come devo dire, restio al proporsi, ma l'ho fatto da noi e questo fatto è in tutti i libri di storia, ovunque. Noi, una situazione così importante, spesso e volentieri, non la ricordiamo neppure, come si suol dire, non ce la filiamo proprio. Così come qualche decennio dopo abbiamo dato spettalità a Dante Ligieri, scusatemi se è poco. Il padre della nostra lingua, della lingua italiana, il poeta, lo scrittore, che ancora oggi, dopo 700 anni, pensate un po', 700 anni, in tutto il mondo unanimemente viene riconosciuto come uno degli scrittori, come uno dei poeti più grandi che siano mai esistiti, grazie a quello straordinario copolavoro che ha scritto, la commedia che noi chiamiamo la Divina Commedia. Ma quando lui non poter rientrare a Firenze nel 1302 perché era stato condannato a morte, chi è che gli ha dato ospitalità? Gli ha dato ospitalità ai romagnoli, prima a San Benedetto in Alpe, presso l'abbazia Benedettina che esiste ancora oggi e che di recente è stata acquisita dal comune di Portico San Benedetto con l'intenzione di sfruttare dal punto di vista turistico, ma lui è stato ospitato nel 1302. E poi successivamente dov'è che ha trovato ospitalità? L'ha trovata a Forlì, presso gli Ordelaffi, che allora avevano la propria casa nella zona dove oggi c'è Palazzo Olbicini, dove c'è il circolo della Scran, per intenderci, ed era quello il palazzo pubblico, il palazzo comunale, perché la famiglia Ordelaffi ha comandato su Forlì, ha retto le sorti della città di Forlì per oltre 300 anni. In quel periodo il signore della città era Scarpetto degli Ordelaffi e insieme a Dante Lighieri organizzano un esercito cappeggiato da Scarpetto Ordelaffi per tentare di ribaltare la situazione militare e politica di Firenze. Vengono sconfitti dall'esercito fiorentino che per ironia della sorte era comandato da un Paolucci di Calvoli, forlivese, che era stato esiliato dagli Ordelaffi. E quindi questo Forlì di Calvoli aveva proprio in odio la famiglia Ordelaffi. Quindi ci ha messo anche del suo nel difendere Firenze e nello sconfiggere i forlivesi e i fiorentini che si erano aggregati a Dante per ribaltare la situazione a Firenze. Poi dopo Dante non ha avuto più la possibilità di pensare, di organizzare un esercito per rientrare in Firenze. Assolutamente, non c'è stata più nessun'altra occasione. E ha trovato ospitalità, dato in giro, a Verona, da altre parti, no? Negli ultimi anni dove? A Ravenna. Dove ha completato la stesura della commedia. Ma per scrivere quei tre tomi, l'inferno, il paradiso, il purgatorio, non ci ha messo un giorno. Quindi sicuramente ha iniziato a scriverla qui da noi in città. Poi l'ha conclusa Ravenna e la stragrande maggioranza dei luoghi che descrive sono luoghi romagnoli, dalle pinete alle chiesi bizantine di Ravenna e così via. E oltretutto metà dei personaggi che cita, che ricorda, sono romagnoli. Quasi tutti, a parte qualche santo, quasi tutti all'inferno. Che ce ne sia uno di Romagnolo in purgatorio e qualche santo. San Damiano per forza l'ha in paradismo. Tutti gli altri sono all'inferno a zone. Eppure erano stati generosi nei confronti di Dante avendolo accolto. Quindi in un capitolo parliamo anche di questo. E poi altro avvenimento straordinario. Tra l'altro è passato proprio di qui, sulla via Ravenna, che allora non si chiamava così. Garibaldi. Garibaldi. 1849, il salvataggio di Giuseppe Garibaldi. Quella che è stata chiamata la trafila Garibaldina. Cioè quando Garibaldi è costretto a fuggire da Roma insieme al suo esercito perché la Repubblica Romana fu soppressa dall'esercito borbonico, dall'esercito francese, dall'esercito austriaco. Loro erano sì o no in 3.000 a difendere Roma. Gli altri tutti quanti mesi di gioco erano 35.000 decentemente armati. Anzi molto bene armati. Mentre Garibaldi aveva un solo cannoncino e pochi cavalli. Per il resto erano dei soldati fra virgolette straccioni. Sono costretti a allontanarsi da Roma. Ma in questo percorso per arrivare in Romagna si fermano a San Marino. A quel punto quelli che sono rimasti erano poco più di 200. Garibaldi dice loro che possono anche ritornare alle proprie abitazioni che non si sente di prendersi la responsabilità della loro vita. Qualcuno resta con Garibaldi e arrivano a Cesenatico. Sottraggono alcune barche, alcuni bragozzi e tentano di partire alla volta di Venezia dove i veneziani che si erano ribalati stanno ancora combattendo contro gli austriaci. Ma la marina militare austriaca, 1849 gli austriaci ce l'avevano ed era ben armata, li intercetta e sono costretti a... Alcuni vengono addirittura catturati dai Garibaldini, gli altri sono costretti a... a spiaggiare, perché il senso del termine è proprio questo, spiaggiare nella zona dell'attuale Porto Garibaldi. E dal di lì inizia una trafila dove i patriotti dell'epoca, quelli che miravano alla unità d'Italia, quelli che miravano ad avere un paese unito, che era ancora una cosa da venire, che si agognava, no? Che si facevano molte insurrezioni, molte lotte risorgimentali, molte battaglie, no? Che cosa fecero i patriotti romagnoli? Da Ravenna fino a Modigliano. Ogni paese, ogni luogo, un paio di questi prendevano in consegna Garibaldi e il capitano Leggero, perché a quel punto erano rimasti in due, essendo Anita Garibaldi morta il 4 agosto del 1849, per essere la fattoria Guicciole di Ravenna, della zona di Ravenna, no? A quel punto sono rimasti in due, li prendono in consegna e li portano da paese in paese, da luogo in luogo. È chiaro che la presenza di questi due forestieri non passa inosservata, anche se i patriotti che hanno il compito di trasferirli da un posto all'altro fanno di tutto per non essere visti, lo fanno di notte, eccetera, eccetera. Ma potete immaginare che non è una cosa facile nascondere Garibaldi e il capitano Leggero. E nel frattempo l'esercito austriaco, il comandante dell'esercito austriaco, aveva fatto affiggere manifesti su tutte quante le piazze dei nostri comuni e delle nostre città, dicendo che chi dava aiuto a Garibaldi, al capitano Leggero, sarebbe stato messo al muro, sarebbe stato fucilato, senza processo. Solo il sospetto che avesse aiutato questi due patriotti, questi due ribelli, li avrebbe portati all'uccisione, alla fucilazione. Ecco, siamo stati in grado di fare questo, siamo stati in grado di fare. Siamo stati in grado di salvare Garibaldi, che è stato poi determinante negli 10, 11, 12 anni successivi per arrivare alla lotta per l'unità d'Italia. E questo dovremmo insegnarlo nelle scuole. Invece in genere è un passaggio che non si fa mai, ahimè, purtroppo. Perché, fra l'altro, interessa proprio le nostre zone, e interessa anche fatti particolari, e ci sono anche nomi di patrioti che hanno aiutato questi due fuggiaschi, che sono nomi romagnoli, maltoni, detto Gnaratta, che di Mastieri faceva il contrabbandiere, è sepolto al cimitero monumentale di Forlì, e abbiamo una lapida voluta dai figli che descrivono il suo ruolo nel salvataggio di Giuseppe Garibaldi, che chiaramente lui non ha potuto nei giorni successivi vantarsene, primo perché era un contrabbandiere, in secondo luogo perché se se ne vantava poteva essere fucilato. E alla sua morte, fortunatamente, i figli hanno voluto mettere questa lapide e ci ricorda che Carlo Moltoni, detto Gnaratta, salvò Garibaldi insieme ad altri patrioti. Si rivolsero a lui per fare che cosa? Per oltrepassare il confine fra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, che era posizionato nella zona di Ladino, nel potere Braga, oggi non a caso c'è la via Braga, subito dopo il Bosco di Ladino, per intenderci sulla sinistra, la prima strada che sale su quella, la via Braga, lì c'è un podere che si chiama Podere Braga, ecco in quel posto, in quel luogo, correva il confine fra lo Stato Pontificio, dove Garibaldi era stato inseguito dai soldati austrici per essere catturato, e dall'altra parte, dove non è che potesse dire di essere in salvo, però il Granducato di Toscana tollerava di più la presenza di patrioti dello Stato Pontificio, ma soprattutto c'era un validissimo appoggio dall'altra parte, che era Don Giovanni Verità, parroco modigliana, che si fece poi carico di trasferire Garibaldi e il Capitano Leggero verso la Liguria, dal di lì riuscirono ad andare in Francia, si salvarono, furono salvati, e sono stati fondamentali per la nostra unità d'Italia. Così come non raccontiamo mai un'altra vicenda capitata più di recente, che è il salvataggio operato dai patrioti, in questo caso antifascisti romagnoli, nei confronti di un gruppo molto rilevante di altissimi ufficiali inglesi catturati dai tedeschi e che l'8 settembre 1943, nel momento dell'armistizio, sono reclusi al carcere fiorentino delle vincigliate. Tant'è vero che riportiamo, anche questo è un racconto molto breve, questo episodio, perché dopo l'8 settembre, naturalmente c'è una situazione di caos e questi soldati e altissimi ufficiali vengono liberati, ma devono trovare un posto sicuro perché nel frattempo sapete che l'esercito tedesco stava invadendo l'Italia in quanto avevano costretto Mussolini a costituire il governo della Repubblica Sociale Italiana e quindi avere il pretesto anche alla legittimità di invadere il nostro paese perché sarebbero venuti a sostenere un governo nato con lo scopo di contrastare il governo Badoglio, il governo del Re, che nel frattempo da Roma erano scappati verso Brindisi. Bene, al carcere delle Vincigliate nella zona di Fiesole sono detenuti tra gli altri alcuni degli uomini più in vista dell'esercito britanico, Owen Tudor Boyd, Philip Nain e Richard O'Connor, i quali dopo essere scarcerati vengono portati presso i frati della zona di Camaldoli dove sanno che possono trovare ospitalità sia perché i frati non dicono di no a nessuno sia perché sono antitedeschi e quindi danno volentieri ospitalità a questo gruppo di soldati britannici. però i tedeschi stanno arrivando nei pressi dell'eremo di Camaldoli quindi potrebbero catturarli e uno di questi frati si incarica di portarli nella zona sopra a l'attuale diga di ritracoli alla foresta della Lama a Strabattenza dove un tempo non si raggiungevano quei luoghi con nessun mezzo meccanico e non si raggiungono ancora oggi con nessun mezzo meccanico e si va a piedi al massimo con il mulo con il cavallo se si aveva e quindi erano luoghi fra virgolette più sicuri dove c'erano molte famiglie di contadini e abbiamo delle testimonianze che dicono che hanno ospitato questi soldati e questi altissimi ufficiali a rischio ancora una volta della propria vita perché non ci arrivavano i tedeschi o i fascisti con i carri armati le camionette eccetera ma quando facevano i rastrellamenti che partivano in cinquecento in mille in mille cinquecento a piedi e arrivavano anche nei posti più isolati quindi rischiavano queste famiglie di essere eliminate ma non solo fisicamente i componenti della famiglia ma avrebbero bruciato le case le stalle avrebbero razziato tutto cioè non sarebbe rimasto più niente e uno di questi testimoni dice noi perché l'abbiamo fatto perché c'era bisogno di dare una mano noi siamo persone credenti e siamo disposti anche a rischiare pur di dare una mano a chi ha bisogno bene questi ufficiali a strabatenza nella zona di strabatenza vengono raggiunti da Torquatonanni che era stato sindaco di Santa Sofia da un giovane giovanissimo esso ufficiale dell'esercito italiano Bruno Vailati che essendo nato ad Alessandria dell'Egitto parlava correttamente l'inglese li raggiungono e Bruno Vailati dice io mi posso mettere a vostra disposizione fare da intermediario fra voi e l'esercito britannico che sta risalendo la penisola ma erano oltre Pescara e infatti il generale O'Connor scrive una lettera e dice il latore della presente Bruno Vailati è un uomo di nostra fiducia viene presso di voi per organizzare il nostro rientro all'interno dell'esercito inglese è una trafile incredibile scritta in più libri perché tutte le cose non vanno mica per il verso giusto e quando da Santa Sofia da strabatenza devono essere trasferiti nella nostra riviera quando si fermano qui a Cocolia presso la casa degli spazzoli di Tonino Spazzoli in particolare questi personaggi che erano in Inghilterra al vertice dell'esercito che erano dei lord che si faceva la verba total matteni nonostante non avessero la metta da barba per farselo però lo usavano i coltelli perché tutte le mattine il soldato inglese era obbligato a farsi premura della propria persona e che quindi quando li trasferirono in queste zone in bicicletta erano riconoscibilissimi cioè si vedevano a chilometri di distanza che non erano dei romagnoli che non erano dei forlevesi che non erano dei ravennati corsero dei rischi incredibili ma riuscirono a rientrare all'interno dell'esercito inglese tant'è vero che il giorno dopo due di loro O'Connors e Tudor furono portati con un aereo in Egitto al Cairo dove era presente Cerci e andarono a pranzo insieme a Cerci e poi immediatamente ripresero il possesso dei loro ruoli non a caso Philip Ney generale salvato dai romagnoli è stato quello che ha guidato l'esercito inglese nel giorno della liberazione della nostra città perché? perché un po' conosceva la zona e quindi diedero l'incarico loro di comandare l'ottava brigata britannica e soprattutto il battaglione dell'ottava brigata britannica che ha liberato le nostre zone anche questi sono avvenimenti sono fatti che hanno coinvolto decine centinaia di nostri romagnoli decine di famiglie hanno ospitato questi soldati inglesi da un certo momento in poi ce ne siamo fra virgolette dimenticati è un peccato è un peccato anche perché il parroco di doniciglio di Verghereto Don Bartolini e insieme al suo colono furono presi perché accusate di aver ospitato un soldato sudafricano che si era paraclutato nella zona sopra a San Pierimbagno sopra a Verghereto sono stati presi sono stati incarcerati e il 10 luglio il 24 luglio scusate 1944 a Coccolia dove adesso è via Cervese angolo via del Cippo Pieve Quinta Pieve Quinta Pieve Quinta Don Bartolini e il suo colono e altre otto persone sono stati fucilati per rappresaglia perché in quella zona era stato ucciso un soldato tedesco in una situazione in un avvenimento che non si è mai chiarito bene come era andato in precedenza però li sono andati a prendere in carcere li hanno portati lì sul posto e li hanno letteralmente fucilati uccisi a dimostrazione che chi dava aiuto se ce n'era bisogno rischiava rischiava la propria vita rischiava la pelle come è avvenuto a diversi di loro ecco adesso una prima parte di quello che contiene questi libri ve l'ho detta adesso passo ancora do la possibilità ancora a Giuseppe di fare altri due brani poi vi dico qualcos'altro riguardo al tema della serata cioè al romagnolo e ai romagnoli prego te dà